C'è uno show televisivo della metà degli anni Sessanta in cui si vede Nina Simone, una delle più grandi interpreti della musica americana, jazz, blues, soul, tutto quello che si può, che seduta al pianoforte annuncia che canterà una canzone. Si intitola Mississippi God Damn, che è un insulto, quasi una bestemmia. Maledetto Mississippi, ossia addannato il Mississippi. Che per la tv americana di quegli anni, tutta sgranata in bianco e nero, è una cosa un po' forte. Ma è così arrabbiata Nina, così arrabbiata, che lo specifica Mississippi God Damn e intendo proprio tutte le parole che ho detto. Ecco, sono Carlo Lucarelli, racconto tante storie e alcune di queste fanno proprio arrabbiare. E questa volta vorrei raccontare perché Nina Simone è così furiosa. Cos'è successo che l'ha fatta arrabbiare? C'era un video alla fine degli anni Ottanta, un video musicale di animazione fatto dalla Hardman Animation, quella di Wallace & Gromit, Gallini in fuga, o Sean, vita da pecora. Claymation, si chiama la tecnica. Personaggi realizzati con la plastilina, di solito animali, ripresi in stop motion, fotogramma per fotogramma, per dirla in modo semplice, naturalmente. Nel video, i personaggi erano gatti, una bella, sensuale, statuaria gattona, vestita da sera, che cantava in un club, e un gatto un po' spiantato, che si faceva buttare fuori dal locale. Tutto in bianco e nero, a parte le labbra rosse di lei, il farfarino rosso di lui, e i cuoricini, rossi anche quelli, che gli uscivano dagli occhi quando la guardava. Bello, e molto divertente. Ecco, la gattona aveva l'aspetto, elegante, sensuale, e statuario, appunto, di Nina Simone, ma soprattutto, la sua bellissima voce pastosa, originalissima, e incredibilmente musicale. Cantava, ma baby just care for me, che Nina aveva inciso tanto tempo prima, quasi 30 anni, nel 1958, ma che nel 1987, era tornato fuori, e aveva scalato le classifiche di tutto il mondo, fino ai primi posti, in America, in Inghilterra, e anche in Italia. La casa di moda Chanel, aveva scelto quel brano, per rilanciare il suo profumo più famoso, Chanel numero 5, con uno spot pubblicitario, in cui si vedeva l'attrice, Carole Bouquet, in varie situazioni da commercial sul profumo, rilanciando, allo stesso tempo, anche Nina e la canzone. Lo fanno le pubblicità, succede, ed è già successo, per esempio con Boombastic, di Shaggy, quando la Levis, l'ha usata per pubblicizzare i suoi jeans, sempre con pupazzi, in Climation. In teoria, Nina, non avrebbe dovuto averne bisogno. Parliamo di una delle più grandi interpreti, delle più grandi voci di tutti i tempi, non solo, di una musicista di straordinario talento. Da piccola, Nina, voleva diventare una pianista classica, voleva essere, diceva, la prima pianista classica nera. In realtà, come fa notare Gianni del Savio, nel suo bellissimo libro su Nina Simone, qualcuna ce n'era già stata, ma non così tante, da non far pensare, ad una ragazzina del North Carolina, nei primi anni 50, di poter essere la prima. canta con la sorella nel coro della chiesa, in cui la madre fa la predicatrice, ed è così dotata, che la comunità decide, di mettere insieme una borsa di studio, per mandarla a New York, a studiare alla Juilliard, in attesa di fare l'esame, per il prestigioso, Curtis Institute of Music, di Philadelphia, dove è sicuro che la prenderanno, visto che è così brava, e studia così tanto, sacrifica tutto per la musica, anche l'amore, lascia anche il fidanzato. E infatti, fa un'ottima audizione, con un punteggio molto alto, ma non la prendono. Smaltita la delusione, col passare del tempo, Nina matura una convinzione, suffragata anche da alcune confidenze, che le hanno fatto. Non l'hanno presa, a studiare musica classica, non perché non sia abbastanza brava, non l'hanno presa, perché è nera. Nina non molla, continua a studiare, e continua a cantare, altra musica, jazz, blues, soul, si ispira a Billie Holiday, canta nei club, incide dischi, e diventa la grande Nina Simone. Poi, nel 1963, succede qualcosa, qualcosa, che la fa veramente arrabbiare. Il 15 settembre del 1963, è una domenica, e quella mattina, come sempre, c'è un sacco di gente, alla chiesa battista, della sedicesima strada, di Birmingham, Alabama. È un momento di pausa, tra una funzione e l'altra, e un gruppo di bambine, che fanno parte del coro, sono di sotto, a cambiarsi, prima di salire nel grande salone per la messa, col predicatore, musicisti, fedeli, e loro, che canteranno gli inni religiosi. È una mattina tranquilla, anche se in quei giorni, a Birmingham, c'è stata parecchia tensione. Siamo agli inizi degli anni Sessanta, gli anni di Kennedy, e l'attività del movimento per i diritti civili, dei neri e non solo, non è ben accetta dalla parte bianca, di quella che viene chiamata, la città più segregata degli Stati Uniti. Il governatore dell'Alabama, il famoso George Wallace, famigerato per qualcuno, e il sindaco Albert Botwell, sono fermamente contrari all'integrazione, tipo quella nelle scuole, bambini bianchi e bambini neri nella stessa classe, che scandalo, e bloccano tutte le iniziative legali. Ma c'è anche qualcuno che usa altri mezzi, molto più diretti, il Ku Klux Klan, che a Birmingham è molto forte. Ci sono intimidazioni, pestaggi, attacchi, soprattutto ci sono tante bombe che colpiscono le attività commerciali e le case dei neri più impegnati. Tante bombe. Da quando è iniziata quella che viene chiamata la campagna di Birmingham, che dalla primavera sta facendo della città un punto nevralgico, della campagna per i diritti civili, con manifestazioni, discorsi pubblici e marce di protesta, come quella di mille bambini che sfilano per le strade della città contro la segregazione, ecco, di bombe, a Birmingham, ce ne sono state già 21. Non hanno ammazzato nessuno, per fortuna, ma hanno già fruttato alla città il soprannome di Bombingham. È una strategia che è un nome preciso che noi in Italia conosciamo bene. si chiama Strategia dell'attenzione e consiste nel far paura alla gente perché rimanga in casa. La campagna di Birmingham però continua e la chiesa della sedicesima strada è un luogo importante. Il reverendo John Cross Jr., che la dirige, è molto attivo e c'è anche già venuto Martin Luther King a parlare. Bene, giorni di tensione. Anche se nonostante tutto, quella sembra una domenica abbastanza tranquilla. Sembra. Alle 10.22 arriva una telefonata agli uffici della chiesa. È la voce di un uomo che dice solo due parole. Dice tre minuti. Tre minuti cosa? È una frase inquietante che fa paura e comunque non è vera perché neanche dopo un minuto boom, arriva l'esplosione. 19 candelotti di dinamite piazzati sotto le scale sul retro della chiesa e innescati da un timer saltano in aria danneggiando le auto in sosta e facendo scoppiare tutti i vetri delle case di due isolati. Ma soprattutto aprono un buco di due metri nel muro della chiesa. Dietro ci sono le bambine che si stanno cambiando per il coro che vengono investite dall'esplosione che si porta dietro pezzi di legno cacinacci e vetri volando via dicono i testimoni come bambole. Ne muoiono quattro. Adi Mae Carol Dennis Carol Rosamond e Cinzia Dion hanno tutte 14 anni tranne Carol Dennis che ne ha solo 11 e ci sono 22 feriti tra le bambine e i fedeli che stavano di sopra feriti gravi come la sorella di Adi Mae Sara 12 anni che le stava sistemando il fiocco quando è stata colpita da una raffica di vetri e ha perso un occhio e sì è una cosa che fa arrabbiare. Prima di quel momento Nina non aveva scritto canzoni direttamente ed esplicitamente impegnate non era mai stata soltanto un interprete di talento cantava cose profonde anche con un forte senso sociale e politico che venivano dal repertorio dell'esistenzialismo francese anche il nome che si è scelta perché in realtà si chiamava Eunice Kathleen Weymond Nina perché così la chiamava un fidanzato sudamericano e Simone come Simone Signoret attrice del cinema francese molto impegnata e moglie di un altro attore molto impegnato politicamente come Yves Montand ma quando viene a sapere quello che è successo Nina perde la testa c'era già stato un episodio che l'aveva sconvolta un paio di mesi prima Medgar Evers un giovane attivista per i diritti civili di Jackson Mississippi che si batteva per l'integrazione scolastica era stato ucciso con un colpo di fucile alla schiena solito copione cittadina piena di gente del Ku Klux Klan attentati tutti i giorni Evers che se ne va in giro protetto da polizia ed FBI che proprio quel giorno chissà perché non si fa vedere così arriva qualcuno e gli spara brutta storia e mettici anche quelle quattro bambine Nina non ce la fa si mette a scrivere in un'ora alla sua canzone piena di rabbia e non solo c'è anche un'ironia feroce un sarcasmo cattivo un po' come in Strange Fruit che è una ballata che cantava Billie Holiday che parlava di strani frutti che penzolavano dai rami degli alberi del sud sangue sulle foglie e sangue sulle radici e sono i corpi dei neri linciati che uscillano nella brezza del sud poesia amara e feroce la canzone di Nina a un ritmo veloce serrato e parole molto dure la propone nei concerti la prima volta in un club del Greenwich Village poi alla Carnegie Hall dove la registra dal vivo e la canta anche in televisione allo Steve Allen Show lei si siede al pianoforte e Steve Allen le dice che sa che è un po' arrabbiata e lei si sono arrabbiata e comincia col titolo che fa parte del testo della canzone the title of this tune il titolo di questo brano è Mississippi God Damn and I mean every word of it e intendo ogni parola di esso a far arrabbiare è soprattutto quello che succede dopo la bomba alla chiesa della sedicesima strada come se non bastassero quelle quattro bambine uccise e l'altra che ha perso un occhio disordini intanto e questo è ovvio scontri tra ragazzi neri e ragazzi bianchi un piccolo esercito tra polizia e guardia nazionale che mina e arresta e spara un ragazzo nero di 16 anni ucciso dalla polizia e un altro di 13 ucciso da un cittadino che si è messo a sparare un po' a caso la cosa però è troppo grossa troppo brutta e contribuisce a smuovere le coscienze e non soltanto di chi è già schierato dalla parte dei diritti civili sì c'è tanta gente che dice quattro neri di meno proprio così ma anche altri che storcono il naso tra i bianchi dico e che partecipano ai funerali delle bambine così ecco che all'ufficio di Birmingham dell'FBI arrivano agenti di rinforzo tra cui esperti di esplosivi 36 ragazzi in giacca e cravata e con i calzini bianchi in giro per la cittadina a frugare dappertutto e di cose in effetti ne trovano mettono insieme una rosa di quattro sospettati Thomas Edwin Blanton Jr Herman Frank Cash Bobby Frank Cherry e Robert Edward Chambis nomi che sembrano essere usciti da un film come Mississippi Burning di Alan Parker con Daniel Dafoe e Gene Hackman e anche fisicamente un po' ci assomigliano ai caratteristi che facevano i ragazzi del Ku Klux Klan fanno parte di un gruppo di fiancheggiatori del Klan che si chiama Cahaba Boys dal nome del fiume Cahaba che scorre lì vicino conta una trentina di membri ed è già stato collegato a molte delle bombe scoppiate a Birmingham anzi Bombing Gun in quel periodo non solo c'è anche chi ha visto un gruppo di uomini bianchi che corrispondono alla descrizione dei sospettati che stava su una Chevrolet del 57 proprio dietro alla chiesa quella domenica a quell'ora e uno è sceso per avvicinarsi alle scale sul retro Robert Edward Chambis viene considerato il capo del gruppo ha anche un soprannome lo chiamano Dynamite Bob Chambis viene arrestato e interrogato dall'FBI ma nel frattempo è successo un casino l'FBI litiga con la polizia locale di cui si dice che molti agenti siano del clan i pochi testimoni prima parlano poi ritrattano e tutti gli altri stanno zitti proprio come in Mississippi Burning Chambis viene accusato soltanto di detenzione e trasporto di esplosivo si becca una multa e ciao l'FBI continua le sue indagini ma nel 68 quando ormai il clima politico è cambiato e i nemici sono diventati altri le indagini vengono chiuse per ordine diretto del suo onnipotente e discusso direttore J. Edgar Hoover e ciao di nuovo caso chiuso si però non finisce qui almeno qualche soddisfazione prendiamocela nel 1971 alla procura generale dello stato arriva William Bexley che ha altre idee rispetto all'impunità della gente del clan e la morte di quattro bambine fa riaprire il caso e questa volta è diverso ci sono testimoni che parlano finalmente c'è chi ha visto Chambis comprare la dinamite per la bomba e chi l'ha visto confezionarla non solo si è anche vantato di quello che aveva fatto e con due poliziotti che prima sono stati zitti ma adesso parlano andava in giro a dire che il clan era troppo morbido e che bisognava fare qualcosa c'è pure la testimonianza di suo nipote che ne parla malissimo di quell'esaltato sanguinario dello zio Chambis finisce sotto processo nel novembre del 1977 si dichiara innocente ma la giuria non gli crede e lo condanna all'ergastro muore in prigione nel 1985 andiamo avanti nel 1995 nell'ambito di un nuovo interesse nei confronti dei cold case i vecchi casi ancora irrisolti l'FBI riapre il caso della bomba alla chiesa della sedicesima strada riaprono i fascicoli chiusi e scoprono che già allora avevano raccolto moltissimi indizi importanti che non erano stati utilizzati c'è un informatore dell'FBI che si chiama Mitchell Burns che ha registrato un sacco di cose interessanti agli incontri dei Kahaba Boys e poi c'è anche una di quelle cose incredibili che in un film ci starebbero benissimo grande fantasia dello sceneggiatore e che invece accadono davvero nella realtà uno dei quattro viene intercettato mentre litiga con la moglie eri con la tua amante l'altra sera dice lei no risponde lui ti sbagli ero con gli amici stavamo facendo una bomba l'FBI arresta Blanton e Cherry perché nel frattempo Cash è morto e li manda sotto processo nel maggio del 2001 Blanton si prende l'ergastolo e finisce dentro dove muore nel 2020 Cherry viene condannato l'anno dopo ergastolo anche lui muore di cancro nel 2004 ecco sarebbero quelle scritte che appaiono alla fine del film con le fotine dei personaggi per dare un po' di soddisfazione dopo una storia che fa arrabbiare Nina Simone resta arrabbiata e dopo Mississippi Goddem scrive altre canzoni come quella dimostrando il suo impegno politico e la sua rabbia non solo con la sua musica ma con la sua vita pubblica e privata e resta arrabbiata anche la gente che in quella metà degli anni 60 lotta con maggiore forza anche grazie a quelle brutte cose successe in Alabama in Tennessee e nel Mississippi Goddem nel 1964 il presidente Johnson vara finalmente la legge sui civil rights i diritti civili che almeno sulla carta mette fine alla segregazione negli Stati Uniti sulla carta perché intanto ammazzano i Kennedy Martin Luther King Malcolm X e un sacco di altra gente e ancora continua Nina Simone muore in Francia nell'aprile del 2003 per un cancro al seno viene considerata una delle voci più belle della musica e una delle sue interpreti e autrici più grandi anche se in effetti ci è voluto una pubblicità per far diventare una Hitler classifica una delle sue canzoni più belle difficile che succeda con Mississippi Goddem non è proprio il brano più adatto per una pubblicità di profumi non è proprio Grazie a tutti